Il corso online sulle dinamiche di classe, inclusione e l'insegnamento pone al centro una questione, vedere la classe come un sistema complesso i cui risultati vanno gestiti dall'insegnante con una serie di attenzioni. Obiettivo di questo corso di quattro ore è quello di approfondire il senso di una classe inclusiva andando ad esplorare concetti come la teoria dei sistemi applicata alla classe, le caratteristiche di una classe complessa e quelli che sono alcuni dei modelli di gestione della classe. Altro tema che poi verrà approfondito è quello relativo allo stile dell'insegnante. L'insegnante è il leader della sua classe, può fare la differenza nonostante le tante difficoltà e le criticità che si trova costantemente ad incontrare. Quali sono gli elementi che possono aiutarlo? Ecco, quello che faremo insieme sarà riflettere sulle difficoltà delle proprie classi e su quelle che sono le strategie che possono essere d'aiuto per favorire dei processi di inclusione.